Quello che ha fatto Areacom, cioè la revoca in autotutela dell'aggiudicazione della società che ha vinto l'appalto delle naiedi per 20 anni, è una cosa gravissima. Io credo che non si sia mai verificata in regione una cosa del genere. Ora però arriviamo al nostro primo interesse, quello di far funzionare la struttura delle naiedi, le piscine che sono molto apprezzate a Pescara, Montesilvano, in tutta l'area metropolitana e farlo subito garantendo anche la stabilità ai lavoratori. La regione prenda atto di quello che ha fatto Areacom e cerchi di gestire in prima persona o tramite comune o tramite soggetti pubblici. Questa è la proposta del Partito Democratico. Si può fare un affidamento diretto, può essere celere, veloce, riaprire anche in un paio di settimane le piscine e farlo con un soggetto pubblico per un periodo di tempo naturalmente. Sei mesi, un anno, la fine della stagione che consenta di stabilire cosa fare nel futuro, ma intanto ridia dignità, garanzia ai lavoratori e certezze alle utenze. Questo è quello che abbiamo chiesto già cinque anni fa al Presidente Marsilio e al Presidente Sospiri. Non ci stancheremo mai di farlo e continuiamo a farlo anche oggi.